Una chiesa gremita di fedeli a Vallo della Lucania per la festa della traslazione del sangue di San Pantaleone, patrono della città di Vallo e dell'intera diocesi. Ieri sera in cattedrale il vescovo Monsignor Ciro Miniero ha celebrato il solenne ponteficale. Ieri sera in cattedrale il vescovo Monsignor Ciro Miniero ha celebrato il vescovo Monsignor Ciro Miniero. Mentre ricordiamo il prezioso dono del sangue di San Pantaleone alla nostra comunità avvenuto nel 1741, ha ricordato il vescovo, chiediamo al nostro protettore la gioia di aprire il cuore della misericordia di Dio e di diventare più misericordiosi verso i fedeli. In prima fila anche il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Aloia e gli altri amministratori cittadini. Ad animare la cerimonia religiosa che ha coinciso con il ricordo delle vittime della strada il coro diretto dal maestro Santina De Vita, così come ci testimoniano queste immagini realizzate da Giuseppe Palladino. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.